Però prima voglio farvi vedere un filmato di quello che dice la dottoressa Silvana De Mari, laureata in medicina all'Università di Torino, che si è specializzata in chirurgia generale ed endoscopia dell'apparato digerente e anche in psicologia cognitiva. E si è citato come chirurgo presso gli ospedali piemontesi San Luigi di Orbassano e Santa Croce di Moncalieri e in Etiopia all'ospedale di Busciulo. Ecco, guardiamo questo intervento pubblicato su Youtube il 27 maggio dal titolo Epidemia finita, comincia il regime e il rischio della sottrazione dei bambini, che è molto grave, tanto per essere in tema a quello che chiederò adesso a Vittorio D'Acol. Prego regia. La bella notizia è che il 13 maggio 2020 PubMed, che è una banca di dati di biomedicina estremamente importante, ha pubblicato uno studio sull'infettività dei portatori di SARS-CoV-19 asintomatici. E pare proprio che un portatore asintomatico di SARS-CoV-19 non lo possa trasmettere a nessuno. Eppure sono stati allorati 60 mila, stanno per allorare 60 mila qualche cosa civici, non entriamo in particolare sulla termine che metterei davanti al civici, che possano multare, aiutare a multare, il barista che non ha impedito l'assembramento, perché due tavolini erano troppo vicini, questo barista che ha appena aperto 400 euro di multa, sì, perché così ci stanno salvando dalla peste bubonica, senza di loro saremmo già morti come Don Rodrigo. Il professor Adrian Hill, direttore del Giatto dell'Università di Oxford in UK, ci spiega che il virus sta scomparendo nel Regno Unito, sta scomparendo anche in Italia. Il coronavirus è successo addirittura col virus della febbre spagnola, successe con l'asiatica nel 57, io c'ero, ero in vita da 4 anni, che ha ucciso 30 mila persone in Italia, 2 milioni nel mondo e poi è scomparso. Verso maggio-giugno scompaiono. In effetti domenica noi abbiamo avuto solo 50 morti in tutta l'Italia, che fa su una nazione di 60 milioni di abitanti, meno di un morto ogni milione di abitanti. Eppure stanno allestendo i treni Covid, i treni Covid? Eh sì, i treni per spostare i malati di Covid, i treni per spostare i malati di Covid, sono 200 mila persone. Abbiamo gli ospedali vuoti, abbiamo le animazioni vuote. Secondo uno studio di Brescia il virus ha perso virulenza, come tutti i coronavirus a un certo punto. Eppure dovremmo stare stretti chiusi in casa. Perché? Perché altrimenti? Altrimenti cosa succede? Chi è che ha deciso di questi impensabili 60 mila qualche cosa? Un tizio che si chiama Boccia, è un ministro di questo governo, che ha spiegato che se non abbiamo usato il metodo del bastone della calota sembra aver funzionato. Una frase di questo genere è pensabile nel momento in cui viene detta da un esercito occupante su una nazione occupata. Quindi una nazione che ha perso anche i suoi delitti più elementari è una nazione occupata. Non mandate i vostri figli a scuola a settembre. Questi hanno deciso quattro mesi prima che a settembre c'era ancora l'emergenza Covid, come diavolo fai a saperlo? È la sfera di cristallo. E hanno stabilito, è scritto nero su bianco, dei programmi assurdi, tanto i vostri bambini restano analfabeti, tanto vale che restano analfabeti a casa loro. Dove c'è scritto che se il bambino a scuola sta male, cioè il bambino dichiaria che ha il mal di pancia o il mal di testa, non telefona al genitore. Telefona al 118 che quel bambino lo prende e lo porta via.